Giovedì 3 gennaio, Santissimo nome di Gesù. È il terzo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 362 al termine. Il sole sorge alle 7.50 e tramonta alle 16.40. La luna si leva alle 5.19 e tramonta alle 14.52. È la giornata di maggior freddo di quel terribile inverno. I cronisti narrano che non solo gli uomini ma anche le carrette sicure andavano da questa dominante alla terraferma sulla laguna gelata. Certi giovani, con bizzarro equilibrio, camminavano su certi legni sopra il ghiaccio. Le previsioni per domani. Precipitazioni assenti, cielo sereno o poco nuvoloso nella prima metà di giornata. Dal pomeriggio nuvolosità in aumento fino a cielo nuvoloso. Temperature senza variazioni di rilievo. Tramontana in attenuazione.